Stefano, a sei ore e mezza circa dalla partita quali sono le condizioni, ci sono rischi che non si giochi? A questo momento la situazione si è abbastanza normalizzata, per cui non vedo nessun rischio al momento. Naturalmente il problema neve è un problema di contingenza, per cui lo vedremo verso le 5, le 6, se aumenta la precipitazione potremo avere dei problemi. Per adesso quello che è stato il piano neve, tra virgolette, attuato, questo è quello di una forte salatura di tutte le curve, per tutte le vie di accesso alle curve che sono scoperte, fatte nei giorni scorsi, con lo spargimento di quasi 800 kg di sale ha avuto i suoi effetti, già così occhio si vede che sulle discese e salite non c'è nulla. Il campo è coperto, già da adesso, già da un'ora abbiamo una decina di persone che stanno cercando di ripristinare al meglio sempre le vie di accesso e di esodo delle curve, per cui per adesso la situazione è tranquilla. Naturalmente questo vale da qui a un'ora, magari non vale più a un'ora e mezza. Che differenze ci sono state rispetto a quel Parma-Inter di due anni fa, che non si era giocato e poi era stata rimandata? Ovviamente era nevicato molto di più e c'era la partita in programma al pomeriggio, quindi meno ore per entrare in azione forse. Quella mattina lì il nevicato è iniziato alle 6 del mattino e in tre ore ci sono stati quasi 12 cm di neve. In questo caso la nevicata che è iniziata veramente molto piccola alle 11, adesso per esempio è interrotta, per cui non abbiamo avuto una precipitazione sensibile e nervosa. In quel caso là era un'emergenza proprio, poche ore per il ripristino e tanta 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 neve. Anche adesso se arrivassero 12 cm di neve o anche 5, la situazione cambierebbe in maniera radicale. La preoccupazione di Conte era soprattutto per il terreno di gioco, perché non voleva giocare la partita su una pista di ghiaccio. C'è questo rischio, anche perché si sono lette delle agenzie un po' allarmistiche che parlavano di temperatura percepita di meno 10, ma se la percepisce l'essere umano un conto chiaramente è il campo. A livello meteo le provisioni, visto che stanno nevicando, parlano di 0 gradi, massimo meno 2, stasera potremo arrivare a meno 3, meno 4. Usiamo sempre il condizionale perché per adesso possiamo fare solamente questo. A livello di terreno di gioco, il terreno di gioco è ben coperto, con dei teli che hanno sempre garantito il mantenimento di una temperatura ideale, per cui non arrivare al congelamento della parte superficiale del campo. Speriamo che anche stasera questo non avvenga. Certo, se arriva vento forte, come ho detto su qualche notiziario, con meno 15, ghiaccia tutto, ma questo non c'è santo che tenga.